Oggi abbiamo con noi la compagnia di Otello, da Shakespeare, firmato da adattamento, firmato da Luigi Locascio, che è interprete e regista e scrittore, autore, drammaturgo. Con noi accanto a Luigi Locascio abbiamo Valentina Cenni, parto dall'unica donna in scena ad Esdemona, abbiamo Vincenzo Pirrotta, Otello e abbiamo Giovanni Calcagno che ha un ruolo molto particolare, molto interessante, un ruolo pensato dal regista, il ruolo del narratore. Perché Otello? Perché questo testo di Shakespeare, un testo su cui tu hai lavorato, un testo che ti ha posto tante domande. È nata in realtà l'idea di Otello in maniera molto anche scherzosa, per assecondare un desiderio che avevamo da quando eravamo, e lo siamo ancora ragazzi, con Vincenzo perché abbiamo cominciato insieme. E quando eravamo all'inizio, usciti dalla scuola, siamo entrati in compagnia insieme allo stabile di Palermo e lì condividendo l'ultimo camerino fantasticavamo appunto, prima o poi chissà se ci capiterà di fare i grandi personaggi. E un'idea era chiaramente l'Otello, perché è forse il testo di Shakespeare in cui in assoluto le due parti maschili sono parti da coprotagonista. L'anno scorso, un anno e mezzo fa, è capitato all'occasione di poter fare qualcosa insieme. Era successo che io ero stato il protagonista di uno spettacolo di cui era regista Vincenzo, dove tra l'altro c'era anche Giovanni Calcagno che era diceria dell'untore, e lì ci siamo detti, sarebbe bello se prima o poi facessimo il contrario, cioè un testo scritto da me o comunque una mia regia e tu sarai il protagonista, perché appunto, ribadisco, non mi sottraggo, cioè non è che io non ci sia, ci sono e sono felicissimo anche di avere questi compagni straordinari in scena. Mi godo anche un po' di tempo dietro le quinte, a guardare soprattutto loro perché è appunto restituito il protagonismo a Otello, ma anche l'importanza della storia d'amore, ecco è sottolineata molto più che l'aspetto appunto del bianco-nero, l'aspetto della questione razziale. La storia viene raccontata da un uomo che è stato molto vicino agli avvenimenti e lui ha voglia di raccontare da capo la storia dal suo punto di vista, denunciando subito al pubblico, agli ascoltatori, delle infrazioni che farà sul versante della realtà dei fatti, ma per andare dritto al cuore di una verità più radicale, che è quella appunto di andare a indagare il mistero come mai un uomo che amava una donna in una maniera così assoluta, e in Shakespeare ci sono delle pagine, dei versi bellissimi, dopo la tempesta, nel primo atto, cioè prima che cominci a delinearsi la catastrofe in cui Otello utilizza parole molto forti per descrivere il suo stato d'animo e il coinvolgimento totale della sua persona all'interno del sentimento amoroso che li stringe in qualcosa che fino alla fine li terrà uniti. Otello, insomma tu hai un ruolo, lo spettacolo, il testo va contro il cliché, lo dicevamo anche prima bevendo il caffè, quindi tu sei fuori dai cliché, il tuo regista ti ha dato la responsabilità. Il personaggio, questo hai detto tu stessa, il fatto che Iago è quello che trama l'inganno, Iago accende la miccia, accende la scintilla perché poi questo fuoco, fino a diventare vampa, fino a diventare vampa feroce, fino a diventare appunto fuoco che brucia ogni cosa e il tronco che brucia e che provoca questo fuoco è Otello. La cosa difficile è stata quella di capire come questo percorso, questa iperbole potesse essere resa in tutta l'azione scenica. Ha fatto un grande regalo Luigi scrivendo questo testo perché è un testo bellissimo e che accende nuova luce su tutti gli studi che si sono fatti, non solo su Otello ma sui testi Shakespeareani. È un testo che va sentito in teatro per vedere lo spettacolo ma indubbiamente ha un forte valore letterario anche. L'invenzione poetica appunto di Luigi è stata proprio enfatizzare questo lato guerriero, e mi ricordo che prima dell'inizio dello spettacolo un giorno mi chiamò Luigi facendomi appunto una proposta indecente come disse perché io mi spaventai un attimino però poi dopo subito per fortuna mi tranquillizzai. Mi è rimasta molto delusa che non era la cosa che si aspettava. Perché mi propose di studiare quest'arte marziale che si chiama Viet Vodau proprio perché appunto voleva dare luce a questo aspetto molto importante di Desdemona. Quindi c'è questa Desdemona che è veramente un raggio di sole, un raggio di vita, è una pulsione di vita quella che ha, mentre quella di Otello è un'altra. Per questo amore come dicevi tu è idealizzato, cioè lei, quest'uomo lo conosce praticamente soltanto nella sua immaginazione e attraverso questo lei riesce a trovare un senso, trova un senso in Otello e in Otello da tutto, Otello è come il suo dio e lei è devota a questo dio, lei si spoglia di tutto, lascia la casa, lascia tutto per andare incontro all'ignoto, incontro al buio, incontro a un uomo straniero che parla un'altra lingua. Nella vicenda di Otello di Desdemona si parla di un amore che probabilmente è stato travisato, che passa attraverso dei travisamenti, queste strade parallele che non si incontrano mai, questo estremismo di Otello. Nella quarta di copertina si finisce dicendo la femmina è una cosa scanosciuta ed effettivamente ogni giorno quando entriamo in scena e mi trovo davanti questa creatura io mi chiedo dal punto di vista del soldato o mio ma chi è questa, ma che cosa le passa per la testa, ma che cos'è questa creatura qui. Grazie.